Noi eravamo in laboratorio come Olivetti a Cupertino e sono andato una sera a visitarlo lui e un suo amico in un garage e se avessi messo 100.000 dollari che in quel momento lui stava cercando in Apple e li avessi tenuti, oggi sarei famoso nel mondo per essere uno degli uomini più ricchi del mondo.